Grazie a tutti. La beauty farm che diceva che pezzo che doveva fare le stesure, chiudere, per dargli il massimo perché quello che diceva purtroppo le metteva l'ultimo doveva dare due minuti e mezzo. Così ho fatto il pezzo. E l'ho inciso nella beauty farm, prima versione, prima, prima, hai capito di che parlo? Quando ho voluto fare la quarta povera che mi sono ritirata di fare la sfida, perché erano troppo simpatici, allora ho detto faccia la quarta povera, chi se ne frega, quello là. C'è anche diamante e il cielo è sempre più blu, questo. Grazie. Ho visto che lei dà moltissimo spazio ai giovani, quanto è importante questa cosa? Io ammazzerei tutti, prima che cambino, i piccoli, ecco, era meglio per rita, piccoli come dice Paolo Rossi, dopo cambiano, cambiano, non si sa perché. Però non so bene, sono tutti ragazzi. Sono la banda bebè. Come vedi, c'è la banda per te e la banda bebè. Però, insomma, ci hanno un pitigri questi. Sì. Ma il papà, batterista e bassista, che sono due fratelli, ho detto, potrei fare la ritmica completa. Maurizio Massi, ecco, che mi devi fare, tra l'altro, ma loro sono fantastici questi ragazzi. Ecco, me li vorrei tenere. Bene. Grazie. Grazie a voi.